Entro fine mese conosceremo il futuro dell'ex Hotel Riviera, la commissione nominata dalla città metropolitana, ente proprietario del bene messo in vendita, presieduta dal dirigente Giuseppe Celi, sta valutando le offerte presentate alla data del 23 luglio scorso. Alle cinque proposte già conosciute se ne sono aggiunte intanto altre due, quasi tutte fanno ricorso alla permuta. Chi vuole acquisire la struttura di viale della libertà ha messo sul piatto altri immobili che l'ex provincia potrebbe utilizzare, come tra l'altro annunciato dal commissario Filippo Romano, ospite del nostro telegiornale il primo luglio. Ci offrono in permuta edifici scolastici e questo è molto importante, molto interessante perché la provincia si toglierebbe, scusate il termine, dal groppone, un immobile improduttivo che costa molto di manutenzione di ICI e avrebbe invece una nuova scuola che è utile in questo momento come il pane. Avviata la procedura negoziata, le sette offerte sono aggiunte a Palazzo dei Leoni per il tramite dell'agenzia immobiliare Italimpresa SRL. Il prezzo a base d'asta è di 7 milioni 973 mila euro. Le vicende dell'ex Riviera le conosciamo e rappresentano una delle pagine più buie della storia recente della provincia di Messina. Diversi tentativi di vendita mai andati a buon fine, questa volta però assicura Romano, raggiunto oggi telefonicamente quella buona, l'immobile di Via della Libertà nel giro di qualche anno sarà riqualificato e potrebbe tornare ad essere una struttura recettiva di riferimento in città.